Cerimonia di apertura di Piazza Regina, questa mattina a Mazzara del Vallo e contestuale riapertura dell'antico punto gelati del nuovo chiosco realizzato a qualche metro di distanza dal precedente che è stato demolito. Non abbiamo fatto scomparire l'antico chiosco dei gelati, ha dichiarato il sindaco, lo abbiamo solo fatto spostare e risulta molto più gradevole del precedente. Naturalmente la piazza non è ancora finita, ci vorrà qualche altro giorno per la collocazione degli arredi. Oggi la inauguriamo per consentire anche all'attività commerciale di interrompere questo silenzio di lavoro che è stato molto lungo. I lavori di riqualificazione della piazza sono stati realizzati dall'impresa Rubino e Genna di Marsala, giudicataria dell'appalto, con un ribasso del 33,44% sull'importo a base d'asta di circa 146 mila euro. Torna con l'ottava edizione Corto Corto, Mon Amour. Altri dieci giorni di tempo per spedire le opere e partecipare al concorso di cortometraggi, diventato un evento annuale particolarmente atteso soprattutto dai giovani registi. Un appuntamento culturale che diventa di anno in anno sempre più atteso, ormai un punto di riferimento per gli appassionati di cinema. Torna anche quest'anno con l'ottava edizione Corto Corto Mon Amour, concorso di cortometraggi curato dall'attore e regista Vincenzo Cusumano, dall'Associazione Culturale Sicilia in Produzione, da Alpa Uno. Oggi il concorso conta numerose partecipazioni di artisti nazionali e internazionali, tra gli scopi dell'iniziativa, oltre a quello di offrire l'occasione di uno scambio di idee su temi insoliti e originali, quello di incentivare le espressioni artistiche più variegate, valorizzando forme di comunicazione che hanno poco spazio nei circuiti convenzionali. Sono ammessi al concorso, filmati o video, editi e inediti, se in lingua straniera, sono richiesti i sottotitoli in italiano e possono spaziare tra tutti i generi cinematografici, dal cortometraggio alla fiction, dal documentario all'animazione o il videoclip. Ogni autore può partecipare al massimo con una sola opera, della durata di 15 minuti, che deve necessariamente essere spedita entro lunedì 16 novembre. Il tema è libero e la partecipazione è gratuita. Il concorso porta avanti una logica di distribuzione ecologica. Si potrà spedire online un link o anche un file, per permettere alla direzione del concorso di visualizzare il lavoro, purché corredato da tutta la documentazione richiesta all'indirizzo cortocortomonamur.gmail.com. Come ogni anno, si prevedono centinaia di partecipazioni. L'anno scorso i concorrenti sono stati 283. Nelle varie edizioni hanno preso parte al concorso filmmaker, Bulgari, Russi, Rumeni e da ogni altra parte d'Europa e del mondo. Una giuria qualificata assegnerà un premio al miglior cortometraggio, quello per l'idea più creativa, e infine il premio I ragazzi non stanno a guardare, al miglior corto realizzato in ambito scolastico associativo. L'assegnazione avverrà durante la serata della proiezione, prevista per il 26 novembre alle 21 presso il Cinealba di Cinesi. Lunedì prossimo 9 novembre, doppio appuntamento fissato dal GAC Golfi di Castellammareccarini per presentare i risultati delle azioni realizzate con il PSL 2007-2013. Alle 10.30 presso il Collegio dei Gesuiti di Alcamo, si terrà l'incontro con la stampa, nel corso del quale il presidente del GAC Pietro Puccio e il coordinatore tecnico Andrea Ferrarella analizzeranno con i giornalisti intervenuti gli output dei progetti messi in campo dal piano di sviluppo locale. Un grande appuntamento aperto al pubblico invece previsto alle 18 presso il Palazzo dei Benedettini di Cinesi, dove si terrà il convegno di chiusura della programmazione dei progetti del PSL, al quale interverranno tra gli altri il vice sindaco di Cinesi Aldo Ruffino, il responsabile del piano di marketing del GAC Paolo Giarletta, il responsabile del piano di promozione del GAC Raffaele Crispino e la responsabile del progetto di creazione di un marchio territoriale sperimentale, Ida Rocco. Il comune di Borgetto ha presenziato a Roma ieri per la consegna dei riconoscimenti del CONI ad atleti e municipi che si sono distinti nel mondo dello sport. Per la comunità montana è arrivata la candidatura a Paese europeo dello sport per il 2017 riservato a comuni con un ristretto numero di abitanti. A raccogliere questa ambiziosa candidatura dalle mani del presidente del CONI Giovanni Malagò, il sindaco di Borgetto, Gioacchino De Luca, l'assessore allo sport Alessandro Santoro e il portavoce del comune, Pino Panettino. I tre hanno ritirato la targa della candidatura ufficiale che verrà contesa con altre due comunità, Montalbano e Licona e Alassio. E si trattava dell'ultima notizia. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento alla prossima edizione. Buon fine settimana a tutti.